Un uomo rinchiuso in una cella ragiona in modo diverso da chi sta fuori. Vede le cose in un altro modo. Ray Braslin è pagato per evadere da qualsiasi prigione. Progettata dall'uomo. C'è un fugitivo! Inizia lo spettacolo. Abbiamo bisogno di lei per testare un nuovissimo carcere con Sigret. Quando cominciamo? Cosa facevi prima di arrivare qui? Mi pagano per evadere. Non sembravi così sveglio. Nemmeno tu. Mi hanno pagato per farti finire qui. Vuole che ci resti per sempre. Voglio scoprire chi è stato. E voglio sapere perché. Devi creare un diversivo. Adesso ci siamo. Tempo è scaduto! Dica a chi mi ha messo qui dentro. E farò sparire questo posto. Facciamolo!